C'è il Presidente del Pescara che ringraziamo, sì c'è il Presidente del Pescara e adesso chiederemo a lui, saremo telegrafici anche perché è tardi, grazie Presidente innanzitutto. Allora ne parlavamo con Andrea Costantini da studio, anche l'infortunio di Bocchetti oggi fa volgere lo sguardo già al mercato del 4 di gennaio, sapete già dove intervenire? Probabilmente a questo punto non solo per quanto riguarda l'attacco Presidente. Bocchetti non credo che sia un infortunio così grave, anzi me lo auguro, è chiaro che magari starà fuori 10 giorni, adesso c'è anche la sosta quindi ci sarà modo per recuperarlo, però al di là di questo le valutazioni ne stiamo facendo, quindi se ci sarà bisogno di prendere un difensore lavoreremo anche su quello. Presidente parliamo di questa partita, non è stato un Pescara brillante però ai punti la sua squadra avrebbe meritato la vittoria, qualche errore grossolano anche in avanti ha impedito di portare a casa i tre punti. Ma questo può accadere? Sì sì, come dici tu ai punti avremmo meritato qualcosa in più, sul campo abbiamo meritato lo 0-0 che c'è stato, adesso guardiamo con ottimismo la prossima partita, cerchiamo di andarcela a giocare veramente col coltello tra i denti perché è una partita importante tale quale è questa, però non è un caso che il Cosenza con il quale abbiamo giocato oggi abbia la miglior difesa di tutto il campionato, quindi evidentemente il loro mestiere lo fanno anche bene, per cui va dato merito anche agli avversari. La sconfitta di Chiavari, il pareggio di oggi non sono dei risultati positivi Presidente perché si trattava di due scontri diretti in chiave salvezza, quanto pesano probabilmente tanto sulla classifica del Pescara questi due passo falso di Chiavari e il mezzo passo falso di oggi? No, no, pesa il passo falso di Chiavari perché è stata una brutta partita da tutti i punti di vista, una partita senza sangue, senza mordente, quella è una cosa che io non voglio vedere, oggi ci può stare che pareggi, alla fine hai preso una traversa, ti hanno fatto una gran parata sul tiro di Valdifiori, hai sfiorato il gol su punizione con Gutt, ne hai fatto uno che purtroppo è stato annullato perché Seder pare che abbia sfiorato la palla, ci sta, quello di Chiavari invece è stato brutto. Ora c'è questa gara di Reggio Emilia, l'ennesima sfida salvezza dove Pescara non potrà permettersi assolutamente passi falsi Presidente, al MyPay Stadium bisognerà fare il risultato. Sì, sì, ma noi dobbiamo essere concreti e cattivi come lo siamo stati nelle partite che sono state magari anche più importanti sulla carta, non dobbiamo mai abbassare la guardia perché questo è un campionato molto difficile e quest'anno lo è ancora di più. Una gara, quella di Reggio Emilia, che Pescara giocherà ancora una volta con problemi di formazione, con indisponibilità di giocatori, questo è un canovaccio che ormai dura dall'inizio della stagione? Beh, adesso siamo anche fortunati perché fondamentalmente sono rientrati quasi tutti, adesso al di là dell'infortunio oggi di Bocchetti che però ha giocato le ultime partite tutte, le ha fatte anche molto bene per cui ha realizzato anche due gol. Ci può stare che uno magari giocando, purtroppo quest'anno è un campionato anomalo, giocando tutte queste partite ravvicinate, non solo il Pescara ha tanti infortuni, sono tante squadre con tanti infortuni proprio per questo motivo. Per cui per fortuna la rosa comunque è abbastanza completa, adesso appena alla sosta rientreranno i vari drudi e rientrerà anche Asenzio nel gruppo per cui si comincerà ad allenare anche Asenzio. Ci muoveremo per fare quello che ci occorre e poi bisogna mettere la testa giù e tirare dritto fino alla fine. Faccio un'ultima domanda Presidente, Moncini, Montalto, Del Pinto, Ceravolo, si fanno tanti nomi, c'è qualcosa che ci può dire ovviamente, Iemmello tra l'altro è tornato in auge, ci può dire qualcosa su qualche giocatore che è stato accostato e che viene accostato ormai spesso al Pescara? Ma in questo momento, lo dicevo al tuo collega prima, gli accostamenti sono fatti non solo dalle squadre ma anche e soprattutto dai procuratori dei giocatori perché quando si vuole mettere in evidenza qualcuno si dice che magari un giocatore va al Pescara piuttosto che all'Ascoli piuttosto che da un'altra parte cercando di stringere un po' i tempi con chi veramente poi è interessato allo stesso giocatore. Noi ce l'abbiamo le idee, ci siamo già anche mossi su alcune piste però devo dire che le piste ce le teniamo per noi perché il mercato funziona così. Iemmello è una pista percorribile? No, no, ma non vi dico nulla sui nomi dei giocatori perché ci stiamo lavorando e speriamo di chiudere prima possibile qualcosa e poi saprete chi viene a Pescara. Grazie Presidente, buon anno, buona fine 2020. Tanti auguri a tutti.